Ciao a tutti, oggi se vi va realizzeremo insieme questi orecchini che ho deciso di chiamare Mariko che è il nome della protagonista della serie televisiva che è terminata da poco, Shogun. Io spero che questi orecchini vi piacciano, come vedete rimaniamo sempre su tema primaverile, io qui intorno a queste perle da 6 mm che fanno parte dell'incastonatura ho immaginato i petali di fiori come al solito e quindi ho realizzato questi orecchini, vabbè la cui forma vi ricorderà probabilmente i miei orecchini old fashion che ho realizzato tanto tempo fa, però come vedete qui le paisley sono un po' più allargate e separate dalle perle da 4 mm poi. Per realizzare l'incastonatura contemporaneamente realizzeremo anche parte degli orecchini e poi un po' di lavoro ci sarà per fare i sostegni sul retro ma nulla di complicato. Per realizzare questi orecchini serviranno due anillini, due perni, due rivoli di cristallo da 14 mm questo è in mocha nel colore violet AB, ne vedete solo uno perché l'altro l'ho già utilizzato poi serviranno 24 paisley, queste sono le ionic, anche se il colore è preciso non me lo ricordo perché l'ho ricevuto in regalo dalla mia cara amica Barbara poi serviranno 8 perle da 6 mm, perle di vetro ovviamente nel colore Himalayan Salt poi serviranno anche 16 perle da 4 mm e di queste non ricordo il colore, la bustina è andata persa e poi ci serviranno l'Erokaimiyuki 11.0 nel colore Duracot Galvanized Bright Copper e l'Erokaimiyuki 15.0 nel colore Duracot Galvanized Light Cranberry poi servirà il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che io sempre vi consiglio, vi metto nell'info box il link per poterlo acquistare e vi spiego anche come farlo passare nella cruna del lago numero 11 e poi serviranno gli aghi che in questo caso sono gli aghi della Beatsmith perché in questo periodo ho acquistato questi qui e noi utilizzeremo il numero 11.0 quindi ci vediamo tra un po' per realizzare l'incastonatura partiremo da questo inserimento un po' insolito almeno mi auguro che lo troviate tale in pratica metteremo 4 rocai 11.0, una perla da 6 mm e questa sequenza la ripetiamo per 4 volte in tutto quindi la sequenza che vedete adesso porto tutto quasi alla fine del filo ripasso, anzi ripassiamo in tutte le perline facciamo congiungere i capi del filo e poi facciamo due nodi nascondiamo il capo corto del filo e ci vediamo qui tra un po' fatto quello che vi dicevo ci ritroveremo così e ci portiamo ad uscire allontanandoci dal nodo, dalla perla da 6 mm a questo punto mettiamo sull'ago 7 rocai 11.0 eccole e ci andiamo a inserire nella perla successiva tiriamo il filo e avremo ottenuto un archetto di 7 adesso però prima di fare gli altri archetti dobbiamo fare un altro passaggio quindi dei passaggi alternati e dovremo mettere sull'ago un'altra sequenza che ora vediamo insieme quindi mettiamo una rocai 15.0 una paisley una rocai 15.0 una paisley una rocai 15.0 e per farvi vedere come inserisco la paisley ecco l'ultima la mettiamo insieme quindi ci andiamo a inserire dalla parte della punta della paisley quindi questa parte più stretta ma anche dalla parte vedete che è all'incavo dalla parte concava e tutte e tre le dobbiamo mettere in questo modo ma dobbiamo aggiungere la rocai 15.0 quindi adesso vi faccio vedere la sequenza completa che sarà questa cioè uscendo noi adesso dalla perla dobbiamo mettere sull'ago una rocai 15.0 e una paisley una rocai 15.0 una paisley una rocai 15.0 una paisley e una rocai 15.0 così come vedete portiamo tutto alla fine del filo e facciamo questo cioè eravamo in questa posizione se vi ricordate stiamo uscendo dalla perla e rientriamo nella stessa perla ovviamente diciamo dal basso verso l'alto e tiriamo il filo e ci ritroveremo così inizierà a formarsi il nostro fiorellino ci ritroveremo proprio così adesso appunto uscendo di nuovo dalla perla nello stesso modo mettiamo sull'ago le 7 rocai 11.0 per fare l'archetto ed ecco le 7 rocai 11.0 e andiamo nella perla successiva così e si sarà formato l'altro archetto giusto per continuità faccio l'altra sequenza per formare il fiorellino ma ve la faccio vedere direttamente già fatta ecco qui rimettiamo questa sequenza quindi rocai 15.0 pesley rocai 15.0 pesley rocai 15.0 pesley e rocai 15.0 e poi andiamo a inserirci di nuovo nella stessa perla da cui stiamo uscendo ma dall'altro lato dal basso verso l'alto e si formerà il secondo fiorellino adesso direi che possiamo continuare in autonomia ecco qui il secondo fiorellino facciamo l'archetto di 7 l'altro fiore l'archetto di 7 l'altro fiore e poi ci rivediamo qui per proseguire a tra poco ecco adesso che abbiamo terminato di realizzare tutti i fiori e tutti gli archetti e stiamo uscendo dalla perla qui perché appunto da qui veniamo fuori facendo l'ultimo passaggio attraversiamo però questa volta anche questa rocai facciamo attenzione questa è una delle rocai dell'archetto di 7 che avevamo realizzato questa che viene subito dopo la perla a questo punto tiriamo il filo ci ritroveremo così e mettiamo sul lago 7 di nuovo rocai 11 0 però come potrete notare quindi avremo questa rocai in comune e con l'altro archetto e poi ci inseriamo anche qui nella rocai dall'altro lato sempre appunto che sarà in comune con l'altro archetto quello sottostante quindi si formerà questo archetto che è di 7 sì ma in realtà è di 9 rocai perché 2 sono queste qui in comune con gli altri archetti realizzati in precedenza intanto ci inseriamo sì in questa ripeto rocai dell'archetto sottostante ma anche nella perla e usciamo dalla perla stessa per ora tiriamo il filo e ripeto avremo formato un altro archetto poi invece di andare a inserirci da altre parti proseguiamo adesso in queste due rocai che sono le due delle quattro che separavano le perle quindi le due rocai che vengono proprio dopo la perla perché dobbiamo fare un'altra piccola cosa anche qui si tratta di due passaggi alternati usciamo da queste due rocai e mettiamo sul lago una rocai 15 0 e ci andiamo a inserire nelle due rocai successive e nella perla sempre che viene dopo tiriamo il filo e tiriamo bene perché in questo caso la rocai 15 0 si va a posizionare qui e ci farà da come dire puntina per rendere quadrata l'incastonatura tra virgolette quindi vedete si crea la punta per questo dobbiamo tirare bene ma stiamo uscendo di nuovo dalla perla quindi cosa facciamo andiamo nella rocai facciamo attenzione vedete come vi dicevo prima non questa in questo caso dell'inserimento iniziale quindi delle quattro che avevamo inserito alternandole alle perle ma nella prima rocai dell'archetto di sette che abbiamo realizzato prima perché dobbiamo fare l'altro archetto ma terremo in comune la rocai questa e l'altra che invece sta sotto quindi mettiamo sull'ago sette rocai è un passaggio che abbiamo già fatto però lo ripeto ed eccole qui e però ci andiamo a inserire anche qua nella rocai dell'archetto sottostante e poi nella perla se non riusciamo in un solo colpo lo facciamo in diciamo due passaggi separati quindi abbiamo attraversato la rocai come vedete e poi ci inseriamo nella perla in questo caso ci inseriamo sì nella perla ma usciamo già direttamente dalle due rocai successive ripeto le due di quelle dell'inserimento iniziale tiriamo il filo e ci mettiamo la rocai 15 0 eccola e ci andiamo a inserire nelle due successive e nella perla e se vogliamo a questo punto se riusciamo attraversiamo già la rocai dell'archetto di sette successivo se ce la facciamo ecco qui così abbiamo completato tutto questo passaggio siamo già nel punto di partenza per rifare il passaggio successivo tiriamo il filo facciamo formare la punta vedete ha fatto un piccolo scatto e adesso stiamo uscendo già dalla prima delle rocai dell'archetto di sette mettiamo di nuovo le sette rocai e proseguiamo poi a ripetere questi passaggi quindi sette rocai e ve lo faccio rivedere ci inseriamo con le sette rocai 11.0 non nella perla ma nella prima nella rocai diciamo l'ultima dell'archetto precedente dell'archetto che sta sotto e poi nella perla e poi nelle due rocai successive così adesso possiamo proseguire in autonomia solo che questo archetto non è venuto bene eccolo qui terminato il giro ci ritroveremo così sto uscendo per enesima volta dalla perla e vedete le quattro puntine le quattro rocai 15.0 che formano quasi un quadrato nell'incassonatura ma adesso dobbiamo proseguire attraversando le prime quattro rocai dell'archetto che viene dopo la perla intanto entriamo in questa rocai che era quella in comune agli archetti e poi attraversiamo le altre tre rocai quindi quattro in tutto di questi archetti come dire che hanno però le perline condivise perché dobbiamo uscire dalla rocai centrale dell'archetto così in realtà vedete escludendo le rocai che sono in comune questo è un archetto di 5 per cui noi usciamo dalla terza che è quella comunque centrale dalla puntina che vediamo qui e adesso dobbiamo fare una cosa semplice e cioè prendere due rocai 11.0 e andarci a inserire nella rocai centrale di quest'altro archetto quello successivo e quale sarà qui la rocai centrale escludendo quella condivisa sarà la quarta includendo quella condivisa sarà la quinta rocai quindi 1 2 3 4 e 5 la rocai centrale di questo archetto e ci ritroveremo così tiriamo il filo perché dobbiamo iniziare a stringere come vi dicevo prendiamo le altre due rocai 11.0 e andiamo nella rocai centrale dell'archetto successivo che è questo qui che è questa qui scusate ecco qui e poi di nuovo altre due rocai 11.0 e andiamo nella rocai centrale dell'archetto successivo ecco tiriamo il filo ci ritroveremo così proseguiamo questo inserimento di due rocai per tutto il giro ci vediamo e ci vediamo qui tra un po' terminiamo insieme questo inserimento mettendo le ultime due rocai e vediamo cosa accade appunto tirando il filo inizia a stringersi l'incastonatura ma prima ovviamente di stringere del tutto prendiamo il rivoli e lo sistemiamo con la parte brillante verso il basso quindi il rivoli sarà appoggiato sulle perle tiriamo il filo e inizierà a stringersi così la nostra incastonatura ora ripassiamo un pochino in queste rocai ovviamente le due aggiunte e le rocai di punta degli archetti e ci rivediamo qui tra un po' perché dobbiamo ancora fare un piccolo passaggio sempre per chiudere meglio questa incastonatura ecco fatto quello che vi dicevo quindi ripassando in queste rocai potrebbe anche già andar bene così l'incastonatura però devo dire che anche nel prototipo io per sicurezza ci ho messo comunque queste tre rocai che vedete sto uscendo da questa rocai che è la rocai centrale dell'archetto che si trova sopra la perla e con le tre rocai vado a inserirmi e andiamo a inserirci nella rocai di punta appunto dell'archetto che si trova sopra la perla successiva questa rocai qui tiriamo il filo e ci ritroveremo così e poi ripetiamo questo passaggio sempre andando nel punto corrispondente successivo le tre rocai 11.0 e ci andiamo a inserire qua nella rocai di punta dell'archetto sopra la perla tiriamo il filo e ci ritroveremo così lo rifacciamo per questi altri due passaggi e ci vediamo qui tra un po' completato il giro e siamo ritornati al punto di partenza ci inseriamo di nuovo nelle tre rocai e a questo punto che poi erano le prime che avevamo inserito e a questo punto ripassiamo proprio solo in queste tre rocai appena aggiunte per stringere meglio l'incastonatura così e ripassiamo un po' di volte ecco così unendo queste tre rocai e ripassando vedrete che l'incastonatura sarà effettivamente più salda e poi proteggeremo anche la punta del rivoli quindi ripassiamo in queste tre rocai appena aggiunte per ogni lato ovviamente a tra poco fatto quello che vi dicevo ci ritroveremo così e a questo punto però dobbiamo andare a come dire inserirci in pratica dobbiamo andare a risalire nella parte davanti che ancora non vi ho fatto vedere intanto siamo qui uscendo dalle tre rocai poi ci inseriamo nella rocai centrale anche in queste altre poi successive vedete risalendo insomma in questi archetti e poi ci andiamo a inserire in un punto che adesso vi faccio vedere dobbiamo uscire dalla rocai di punta quella della rocai 15.0 che era che formava quella specie di quadrato insomma la rocai di punta che abbiamo inserito prima intanto risaliamo qui nella rocai risaliamo nella perla e poi attraverseremo le due rocai 11.0 che seguono e la rocai 15.0 e vedete siamo stati fortunati perché l'abbiamo fatto in un solo colpo e adesso giriamo il lavoro e ci ritroveremo così ad uscire da questo punto a tra pochissimo ecco uscendo da questo punto il filo va verso destra vedete mettiamo sull'ago 3 rocai 15.0 e ci andiamo a inserire nel foro libero della paisley che abbiamo appunto sulla destra e comunque di seguito da questa parte tiriamo il filo e ci troviamo così adesso questi passaggi saranno molto semplici per fortuna prendiamo una perla da 4 e ci andiamo a inserire nella paisley che viene dopo prendiamo un'altra perla da 4 millimetri e ci andiamo a inserire nella paisley che viene ancora dopo così tiriamo il filo ci ritroveremo così adesso prendiamo di nuovo 3 rocai 15.0 eccole e ci andiamo a inserire nella rocai 15.0 che abbiamo qui nella parte diciamo dell'incastonatura questa che ci fa da punta per formare una specie di quadrato insomma nell'incastonatura ci inseriamo qui nella rocai tiriamo il filo e adesso non dobbiamo fare altro che ripetere questi passaggi quindi come abbiamo fatto prima prendiamo le 3 rocai 15.0 e ci andiamo a inserire nella paisley che viene dopo e poi continuiamo così con l'inserimento delle perle tra una paisley e l'altra e le rocai 15.0 come abbiamo fatto finora ci vediamo qui a giro ultimato terminiamo insieme il giro mettendo le ultime 3 rocai 15.0 e andandoci a inserire qui nella rocai da cui eravamo partiti semplicemente così e avremo il giro terminato in questo modo questo è come si presenta l'orecchino adesso dobbiamo fare i sostegni sul retro che diciamo non sono semplicissimi ma sono ovviamente indispensabili in questo caso per rendere stabile l'orecchino e li completiamo insieme tra un attimo risaliamo infatti da questa rocai nelle tre rocai 15.0 che seguono così tiriamo il filo e proseguiamo fino ad arrivare alla paisley centrale scusate se ho girato il lavoro andiamo qui attraversiamo la paisley centrale delle tre giriamo il lavoro vedete il filo adesso va verso destra ma se giriamo poi verrà qui fuori da verso sinistra e mettiamo sul lago 7 rocai 11.0 ecco e con queste 7 rocai 11.0 ci andiamo a inserire vedete qui sotto la perla c'è questo archetto che era quello che avevamo realizzato all'inizio e ci andiamo a inserire qui nel rocai come vi dicevo il filo sta uscendo verso sinistra girando il lavoro andiamo nella rocai che si trova a sinistra rispetto alla punta ed è questa che appunto vedete tiriamo il filo ci inseriamo nella rocai accanto senza attraversare quella di punta quindi questa di destra e ci troveremo così e mettiamo sul lago di nuovo 7 rocai 11.0 eccole e ci andiamo a inserire nella paisley da cui stavamo uscendo inizialmente e quindi andiamo da destra verso sinistra tiriamo il filo ci ritroveremo così e abbiamo creato il primo sostegno poi attraversiamo la perla e anche la paisley e ci ritroveremo così mettiamo sull'ago 2 rocai 11.0 e ci andiamo a inserire vedete il filo sta uscendo da questo punto nella paisley che viene subito dopo con le due rocai 11.0 tiriamo il filo e ci ritroveremo così andiamo ad unire anche queste parti nello stesso momento in cui facciamo i sostegni poi ecco andiamo avanti attraversiamo anche la paisley centrale sempre di questo gruppetto di tre e qui rifacciamo gli archetti di 7 ecco le 7 rocai 11.0 ci andiamo a inserire come abbiamo fatto prima lo ripeto giusto per farvelo vedere meglio andiamo qui con il filo stiamo uscendo verso sinistra andiamo nella rocai di sinistra che si trova nell'archetto sotto la perla tiriamo il filo il filo dovrà sistemarsi così poi andiamo a vedete inserirci nella rocai accanto che si trova a destra e qui rimettiamo le 7 rocai quindi anche qui questi doppi passaggi alternati li dobbiamo rifare per tutto il giro prendiamo le 7 rocai andiamo inserirci nella paisley sempre quella centrale attraversiamo la paisley attraversiamo la perla e la paisley successiva ci troviamo così prendiamo due rocai 11 0 e ci andiamo inserire nella paisley che viene dopo e proseguiamo il giro e ripetiamo questi passaggi alternati per tutto il giro a tra poco terminato il giro ci ritroveremo così i sostegni vi sembreranno morbidi ma non vi preoccupate perché noi adesso andremo a fare gli altri sostegni che renderanno il tutto più stabile innanzitutto appunto inserite le ultime due rocai ci ritroveremo uscire dalla paisley ma attraversiamo anche la perla e anche la paisley centrale di nuovo così e e poi attraversiamo le prime tre rocai di questo archetto che avevamo realizzato prima attraversiamo le prime tre rocai perché adesso prendiamo tre rocai 11 0 eccole e ci andiamo a inserire nelle due rocai 11 0 queste che si trovano tra le paisley che abbiamo aggiunto poco fa tiriamo il filo e ci ritroveremo così ecco perché vi dicevo poi questi archetti vanno a piegarsi quindi sono meno morbidi di come vi possano essere sembrati inizialmente prendiamo adesso di nuovo tre rocai 11 0 e ci andiamo a inserire nelle ultime tre rocai invece di questo archetto che abbiamo sulla sinistra così tiriamo il filo e ci ritroveremo così ecco che qui si andrà a formare quasi una linea continua che noi dopo completeremo poi attraversiamo di nuovo la paisley attraversiamo vedete tirando il filo come ci troveremo poi vi dicevo attraversiamo la pesi attraversiamo di nuovo le tre rocai successive dell'archetto che avevamo realizzato prima prendiamo le altre tre rocai 11 0 eccole e andiamo a inserirci nelle due rocai che abbiamo tra le paisley queste qui tiriamo il filo così e si sistemerà così la situazione prendiamo le altre tre rocai 11 0 e ricordiamoci che dobbiamo entrare nelle ultime tre rocai di questo archetto di 7 che avevamo realizzato nel giro precedente così riattraversiamo la paisley riattraversiamo le tre rocai e poi proseguiamo con inserimenti come abbiamo fatto finora vedrete si formeranno queste linee diciamo così lungo il nostro quadrato che abbiamo formato e poi facciamo ancora pochi altri passaggi a tra poco terminato il giro ci ritroveremo con questa struttura e quindi adesso dobbiamo fare solo qualche piccolo dettaglio di cui uno è un inserimento di due rocai che adesso faremo qui intorno a questi sostegni e l'altro invece sarà il cappietto e poi abbiamo terminato quindi cosa facciamo io terminando diciamo questo giro mi trovo a uscire da queste rocai poi andiamo avanti nella paisley poi tiriamo bene il filo vedete come si stabilizzerà meglio il tutto e adesso cosa facciamo attraversiamo queste sei rocai che poi tre erano quelle dell'archetto di sette originario tre quelle aggiunte poco fa e usciamo da questo punto ci troviamo in corrispondenza delle due rocai tra le paisley e infatti siccome qui c'è quasi un vuoto in questo punto non facciamo altro che per rendere ancora più stabile il tutto aggiungere queste altre due rocai 11 0 che vedete e andare nelle rocai che abbiamo dall'altra parte sempre queste sei rocai che abbiamo in linea se non riusciamo ad attraversarle tutte insieme lo facciamo in due passaggi separati però io ci provo ad attraversarle tutte così e ci troviamo così tiriamo il filo vedete qui si sarà creata una linea continua in corrispondenza anche delle altre due che c'erano già attraversiamo la paisley poi attraversiamo le sei rocai e scusate poi aggiungiamo le due rocai che vi dicevo e andiamo nelle rocai nelle sei rocai che sono dall'altra parte ecco non sono riuscita ad attraversarle tutte in un colpo facciamo attenzione che il filo non si impigli le due rocai si sistemeranno qui proseguo ad attraversare ancora queste due rocai che mi mancano della serie che già avevamo e poi di nuovo andiamo ad uscire da questo punto aggiungiamo le due rocai proseguiamo lungo il percorso e aggiungiamo le altre due rocai a quel punto andiamo poi ad uscire vi farò vedere io dopo dal punto in cui faremo il cappietto quindi inseriamo ancora le due rocai qui e qui e ci vediamo qui tra un po' terminando l'inserimento delle due rocai come vi dicevo ecco che qui che le vedete si vede bene ci troviamo uscire da questo punto e attraversiamo diciamo per l'ultima volta la paisley sempre quella dell'angolo quella centrale delle tre però questa volta andiamo ad uscire quindi attraversiamo anche la perla che viene dopo attraversiamo anche la paisley che viene dopo e andiamo ad uscire da questo punto qui cioè attraversiamo le due rocai quelle proprio che in origine erano tra le paisley o meglio che le abbiamo aggiunte a un certo punto tiriamo il filo quindi stiamo uscendo dalle due rocai queste che si trovano sul davanti e qui facciamo il cappietto e lo facciamo con 6 rocai 15 0 eccole e ci andiamo a inserire nelle stesse due rocai da cui stiamo uscendo così tiriamo il filo ci ritroveremo così avremo realizzato il cappietto e adesso lo ripassiamo e poi proseguiamo ancora nel lavoro facciamo due nodi andiamo ancora avanti nel lavoro possiamo tagliare il filo ci vediamo qui tra un po' ed ecco gli orecchini marico terminati ovviamente spero che vi piacciono e volevo solo ricordare magari di fare i due nodi eventualmente nei sostegni sul retro perché così passate piacevolmente con l'ago poi vi volevo dire nel caso in cui decidiate di reinterpretarli mi raccomando taggatemi perché mi fa molto piacere vedere le vostre versioni potrete condividere nelle mie storie di instagram e facebook i riferimenti social sono giù nell'infobox intanto vi ringrazio tantissimo per il vostro sostegno e vi do l'appuntamento qui sul canale con la prossima idea a a a a